Procedono i lavori, siamo ormai da 15 giorni in questa situazione, nel senso che il tetto aveva bisogno di un intervento perché da qualche anno piove in chiesa, scende dall'acqua in alcuni punti della chiesa e quindi l'intervento era necessario o un intervento che tamponasse i punti dove appunto viene giù l'acqua oppure un intervento più significativo. Abbiamo optato per l'intervento più significativo avendo trovato i fondi per poterlo pagare e quindi abbiamo iniziato questo lavoro che prevede il rifacimento del tetto e poi la ristrutturazione delle facciate visto che abbiamo iniziato facciamo un lavoro completo in modo da sistemare tutta la chiesa che possa tornare un po' il suo splendore. Quindi siete stati assistiti comunque in quest'opera, non succede anche da tutte le parti quindi questo è un bel vantaggio per la vostra piccola comunità? Certamente, anche perché avendo noi un mutuo per la costruzione dell'oratorio senza questi aiuti non avremmo potuto realizzare il tetto e le facciate. Gli aiuti sono venuti in gran parte, per la maggior parte, dall'8x1000 della CEI quindi devo ringraziare anche gli uffici di curi e competenti che ci hanno aiutato nella pratica e per poi andare a buon fine con tutte le pratiche che abbiamo fatto e abbiamo avuto anche 100.000 euro di donazione da una fabbrica, da una ditta qui vicino a noi che ringrazio molto perché era proprio la quota che ci mancava per poter affrontare con un po' di serenità questa spesa e diciamo averla conclusa insomma. Con l'ultimo messaggio che può lasciare prima di una nuova avventura quindi si sposterà in Valle del Lue a partire dal mese di settembre. Sì, anche questo è vero, io ho iniziato i lavori prima di sapere di essere trasferito e quando ormai il ponteggio era su è arrivata la notizia del mio trasferimento quindi sì, è l'ultimo messaggio, l'ultimo segno ma che mi premeva anche perché appunto è bello lasciare comunque anche chi verrà dopo di me la chiesa sistemata anche perché la chiesa è il luogo più importante di una comunità cristiana quindi trovare una chiesa sistemata, pulita e messa bene penso e spero sia anche un buon messaggio e poi appunto mi trasferirò in Valle del Lue e lì inizierà una nuova avventura per me ma credo anche per la gente che incontrerò.